Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, nella lezione di oggi impareremo a risolvere le disequazioni con i valori assoluti. In particolare faremo alcuni esercizi in cui vi indicherò qual è il metodo migliore per poter risolvere, eseguire quindi con successo questo tipo di esercizi. Allora, cominciamo dal primo esercizio, una disequazione con un solo valore assoluto. Quindi qua basterà applicare la definizione di valore assoluto e dire che se l'argomento del valore assoluto, quindi c'è l'espressione che compare all'interno, quindi 3x-4 è maggiore o uguale a 0, allora io la posso prendere con segno positivo, quindi più 3x-4 è maggiore o uguale a 2x più 5. Questa è la parte che rimane invariata. Unisco le soluzioni di questo sistema con il prossimo sistema che è composto dalla seconda ipotesi, quindi se 3x-4 è maggiore o uguale a 0, allora prenderò col segno meno l'argomento del valore assoluto, cioè l'espressione che compare all'interno del valore assoluto, quindi maggiore o uguale a 2x più 5. Quindi si tratta di risolvere questi due sistemi e di unire le soluzioni. Quindi risolviamo la prima disequazione, 3x è maggiore o uguale a 4, dividendo per 3 abbiamo x maggiore o uguale a 4 terzi, quindi abbiamo questa situazione. La seconda, scriviamo 3x, poi spostiamo il primo membro a 2x, diventa meno 2x, maggiore o uguale a più 5, poi questo meno 4 lo spostiamo al secondo membro e diventa più 4. Quindi avremo che x maggiore o uguale a 4 terzi, e la seconda disequazione diventa x maggiore o uguale a 9. Quindi faremo adesso il grafico da cui leggeremo le soluzioni, quindi abbiamo la serie delle x, segniamo i numeri in ordine crescente tra quelli trovati, quindi 4 terzi e 9. Quindi abbiamo x maggiore o uguale a 4 terzi, quindi salgo, io mi sposto sulla destra, ovviamente 4 terzi è compreso, quindi pallino pieno, e poi x maggiore o uguale a 9, anche qua pallino pieno. Quindi il nostro sistema sarà appunto verificato per x maggiore o uguale a 9. Vedete, qua abbiamo due linee continue, quindi vuol dire che le due disequazioni sono verificate contemporaneamente. Quindi il primo sistema ha come soluzioni x maggiore o uguale a 9. A questo devo unire le soluzioni del secondo sistema, e quindi abbiamo... La prima disequazione avrà la soluzione x minore di 4 terzi, qui devo fare un po' di calcoli, quindi diventa meno 3x più 4 maggiore o uguale a 2x più 5. Quindi x minore di 4 terzi, e continuiamo meno 3x meno 2x maggiore o uguale più 5 meno 4. Quindi x minore di 4 terzi meno 5x maggiore o uguale a 1. Possiamo cambiare i segni, nella seconda disequazione diventa x minore di 4 terzi, 5x minore o uguale a meno 1. Dividiamo tutto per 5 e abbiamo tutto terminato. Quindi x minore o uguale a meno 1 quinto. Facciamo il grafico di questo sistema e quindi otteniamo. La serie x, mettiamo i numeri trovati in ordine crescente, partiamo da meno 1 quinto, e poi abbiamo 4 terzi. Quindi abbiamo x minore di 4 terzi e poi x minore uguale a 1 quinto. Quindi conterò due linee per x minore uguale a 1 quinto. E questa è la soluzione del nostro secondo sistema. x minore uguale a meno 1 quinto. Quindi diremo che la soluzione della mia disequazione con un valore assoluto sarà x minore uguale a 1 quinto meno 1 quinto veramente oppure x maggiore uguale a 9. Ok, andiamo avanti. Adesso si è andato a risolvere questa disequazione che contiene due valori assoluti. Qui la procedura cambia leggermente. Nel senso che noi dobbiamo studiare maggiore uguale a 0 entrambi gli argomenti dei valori assoluti, quindi x2 meno 2x è x, in questo caso. Fare il grafico, quindi capire appunto come gestire con queste due espressioni all'interno dei valori assoluti. Allora, cominciamo nello studiare x2 meno 2x maggiore uguale a 0 quindi scriviamo l'equazione associata x2 meno 2x uguale a 0 quindi un'equazione spuria raccogliamo x al fattore comune x, quindi moltiplica x meno 2 uguale a 0 e quindi abbiamo le due soluzioni x uguale a 0 e x meno 2 uguale a 0 cioè x uguale a 2 quindi la parabola di equazione y uguale a x2 meno 2x intersecherà l'asse x in due punti di ascissa 0 e 2 e la domanda per quali valori di x la parabola ha appunti di ordinata positiva noi cosa facciamo? Abbiamo evidenziato di giallo i rami della parabola che hanno ordinata positiva e i valori di x relativi saranno appunto x minore uguale a 0 e x maggiore uguale a 2 eccoli qua ok? Il secondo argomento è x scriveremo x maggiore uguale a 0 e possiamo fare il grafico quindi ci ritroviamo rappresentando le soluzioni su questo diagramma ci troviamo l'asse reale soddiviso in tre intervalli che abbiamo indicato con i numeri 1, 2 e 3 il primo intervallo abbiamo cioè quando x è minore di 0 abbiamo che prenderemo il primo valore assoluto positivo e il secondo invece consiglio meno di fronte quindi scriveremo x minore di 0 più la parola di x 2 meno 2x meno l'uguale di 2 per meno x ok? meno 3 perché appunto la linea continua rappresenta praticamente l'intervallo in cui la disequazione è positiva e quella strategia dove è negativa secondo sistema da 0 a 2 ecco qui ho messo anche gli estremi ma potremmo mettere nel primo oppure anche nel terzo però l'importante è contare una volta sola quindi qua vediamo che il il fattore x2 meno 2x l'argomento x2 meno 2x è negativo mentre x è positivo quindi prenderò cosigno meno x2 meno 2x e cosigno più x quindi otteniamo un sistema si fatto il terzo intervallo è x maggiore di 2 e abbiamo che entrambi gli argomenti i valori assoluti sono positivi e quindi possiamo togliere i valori assoluti e prendere i loro argomenti cosigno positivo quindi più x2 meno 2x meno l'uguale a 2 per più x meno 3 ok a questo punto dobbiamo risolvere tre sistemi e poi unire le soluzioni allora risolviamo il primo sistema quindi x2 meno 2x meno l'uguale meno 2x meno 3 vedete ho già eliminato meno 2x e quindi praticamente adesso posso risolvere appunto la seconda disequazione x minore di 0 e otteniamo x2 più 3 minore uguale a 0 questa è una disequazione di secondo grado scriviamo l'equazione associata x2 più 3 uguale a 0 che è una pura quindi x2 uguale a meno 3 che è impossibile perché un quadrato non può mai essere negativo quindi diciamo che la nostra parabola ha non tocca mai non interseca mai l'asse delle x però alla domanda quali sono i punti della parabola che è l'ordinata negativa risponderemo che non esiste non esistono x appartenenti ad r quindi non ha soluzioni cioè non è mai verificata e quindi anche il sistema non è mai verificato cioè non ha nessuna intersezione intersezione quindi non dà nessun contributo alla soluzione della nostra disequazione andiamo avanti risolviamo il secondo sistema quindi abbiamo anche qua abbiamo già sotto le parentesi meno x2 più 2x minore uguale a 2x meno 3 2x va via e dobbiamo risolvere anche qua la seconda disequazione quindi otteniamo meno x2 più 3 minore uguale a 0 quindi la cambiamo di segno quindi la cambiamo di segno quindi sempre x compreso tra 0 e 2 x2 meno 3 maggiore uguale a 0 scriviamo l'equazione associata x2 meno 3 uguale a 0 quindi x2 uguale a 3 anche questa è una pura e quindi otteniamo x uguale più o meno radice di 3 quindi la nostra parabola intersecherà l'asse delle x in due punti più o meno radice di 3 di ascissa più o meno radice di 3 eccola qua meno radice di 3 più radice di 3 quindi alla domanda per quali valori di x la parabola ha ordinate positive risponderemo prima evidenziamo i rami della parabola che hanno ordinate positive e poi facciamo vedere le x che sono x minore uguale a meno radice di 3 oppure x maggiore uguale a più radice di 3 quindi questa è la soluzione della seconda disequazione quindi abbiamo x compreso tra 0 e 2 e poi x minore uguale a meno radice di 3 oppure x maggiore uguale a più radice di 3 facciamo il grafico qui c'è da fare un po' di attenzione perché abbiamo diversi numeri di cui tenere conto quindi abbiamo praticamente il numero più piccolo è meno radice di 3 poi abbiamo lo 0 poi abbiamo radice di 3 che è 1,7 circa e poi abbiamo 2 quindi il primo intervallo è da 0 a 2 quindi la prima la soluzione della prima disequazione poi abbiamo x minore di radice di 3 di meno radice di 3 e poi abbiamo x maggiore uguale a più radice di 3 quindi la mia soluzione la trovo dove sono verificate le due disequazioni contemporaneamente quindi da radice di 3 a 2 quindi la soluzione del nostro sistema è radice di 3 minore uguale a x minore uguale a 2 ok a questo punto risolviamo il terzo sistema e vediamo quindi abbiamo x maggiore di 2 e qua otteniamo x2 meno 4x più 3 minore uguale a 0 l'equazione associata che è x2 meno 4x più 3 uguale a 0 che risolta mi da le due soluzioni x1 2 uguale con la formula ridotta 2 più o meno radice di 4 meno 3 fratto 1 e cioè 2 più 1 che fa 3 e 2 meno 1 che fa 1 quindi la mia parabola taglierà l'asse delle x in due punti in questo modo i tratti di parabola che hanno ordinato in negativa sono questi e quindi le soluzioni le troviamo per x compresi da 1 a 3 quindi abbiamo che la soluzione è x compreso tra 1 e 3 il nostro grafico sarà quindi qua abbiamo 1 qua abbiamo 2 e qua abbiamo 3 quindi x maggiore di 2 e x compreso tra 1 e 3 quindi la soluzione del nostro sistema sarà x compreso tra 2 e 3 a questo punto possiamo unire le soluzioni e la soluzione della nostra disequazione sarà x compresi tra radice di 3 e 3 la lezione di oggi è conclusa grazie per l'attenzione a rivelerci grazie grazie